Come abbiamo avuto modo di dire in apertura, sezione ospiti molto ampia, si parte con Gabriele Giorgi, pilota del Mini Challenge, leader della speciale classifica Light. Amici sportivi, buonasera. Questa sera abbiamo con noi un altro che, piuttosto che il rally, preferisce calcare le piste, ovvero Gabriele Giorgi, qui alla mia sinistra, che è figlio d'arte, perché anche lui ha iniziato con il kart e la prima volta che hai messo le chiappe su un kart, quanti anni avevi? Avevo dieci anni. Dieci anni, pensa te. Ma la cosa basilare è che ovviamente è che suo padre è stato, e è attualmente, ma è stato campione mondiale nell'89, Gianluca, Giorgi, che salutiamo. Quindi, appunto, ciao babbo, perché dopo tanto padre, dopo tanta passione, non potevi fare né nel basket, né nel tennis, né tantomeno la canoa. Infatti mia madre mi dice sempre, potevi fare il tennis o qualche altro sport, però ho detto, mi volevo differenziare un po' da tutti. Appunto. E seguire le forme di mio padre, chiaramente. Allora, la cosa bella di Gabriele è che ha deciso quest'anno di debuttare in pista nel Mini Challenge. Spiega ai nostri telespettatori che cosa vuol dire e che cos'è questo Mini Challenge. Allora, il Mini Challenge è un campionato monomarca organizzato da Promodrive, da Mini, che poi è BMW Italia. E quest'anno è la novità che appunto sono entrato io debuttando nella categoria Mini Lite, Mini Challenge Lite. E corriamo insieme alla Mini Challenge Pro. Si differenzia sostanzialmente che la mia categoria, la Challenge Lite, è completamente di serie, tranne il kit estetico che è uguale alla Pro e lo scarico libero e l'aspirazione. Poi il motore, impianto frenante, è tutto di serie e anche i controlli all'interno dell'abitacolo, diciamo, sono pressoché nulli perché si deve pensare solo a guidare e a divertirsi. Sinceramente ho trovato veramente fantastico tutta l'organizzazione dello staff e tutto, il Mini Village, l'Hospitality. Veramente, secondo me... Le cose fatte come BMW di solito... Un campionato veramente organizzato bene, con costi giusti, perché oggigiorno correre purtroppo nell'automobilismo costa molto e trovare gli sponsor, specialmente in Toscana, è un po' un problema. Buon supporto televisivo... Sì, praticamente abbiamo la diretta su Dplay, che è il canale streaming di D-Max e tutti i giorni delle gare, quindi sia la gara del sabato che la gara la domenica, viene trasmessa in replica su Italia 2. Come ben vedete, è ferrato e soprattutto, a differenza di taluni che ogni tanto vengono qui e non sanno nemmeno quali sono e quali saranno i supporti delle specialità nelle quali loro esercitano il loro tempo libero, Il buon Gabriele, invece, è ferrato in materia. La cosa che non vi ho ancora detto, però, è che praticamente su due gare e per ogni gara c'erano due manche, le ha vinte praticamente tutte e quattro. Sì. Infatti, non è proprio uno di quelli che bisogna andarlo a cercare in fondo lo schieramento. Sto, infatti, sto vivendo un po' un sogno che spero che per un momento continui. Sinceramente non pensavo di debuttare e subito essere vincente. Mi avevano un po' parlato di questo go-kart feeling che ha la mini e quindi comunque, venendo appunto, provendo la kart, è facilitato per questo. Però sicuramente il kart è molto più, è molto più faticoso, però ti permette di sbagliare. La macchina, bisogna molto più guidarla di testa e quando ti parte la macchina è difficile riprenderla e si fa dei bei danni. Quindi bisogna cercare un attimino più di usare la testa nell'automobilismo rispetto al kart. Il kart è un po' più istintivo, faticoso ma anche più istintivo. E quindi, insomma, diciamo che è stato tutto per me un sogno che sto vivendo e un entusiasmo fantastico. Me, con il mio team, i miei amici che mi seguono sempre, insomma, la mia famiglia, mia moglie che mi ha permesso sempre di poter andare a correre, anche storgendo il naso perché non è molto contenta che io faccio questo sport. Bene, è il terzo pistaiolo che intervisto quest'anno e dovrei dire quattro perché c'è il buon Riccardo De Bellis che però è un mezzo e mezzo, fa sia pista sia lì. Ma di solo e esclusivamente pistaiolo, Gabriele è il terzo. Dopo praticamente una persona che ti è anche molto amica e lo conosci che è Riccardo Pera che mi ha detto esattamente le stesse cose tue. Il kart lo devi prendere proprio quasi in maniera di aggressività eccetera, mentre sulla vettura anche lui ha trovato questa difficoltà di concentrazione, tutto quanto eccetera, poi è... Calcolando che poi lui venendo dalla Cayman Cup aveva anche un discorso di cavalleria abbastanza decisamente importante. È proprio un ambiente diverso, cioè il kart diciamo, a meno per quello che lo facevo io, quindi a livelli diciamo quasi dilettantistici, è molto più familiare, mentre entrando in un autodromo quando vedi comunque la storia, Imo, la Misano, dove ci sono i migliori campionati del mondo a livello di importanza, insomma ti emoziona comunque entrare in un autodromo dove hanno corso gente importante. Senti una cosa, ma esiste del cameratismo poi fra tutti voi che fate, fra tutti gli iscritti del mini challenge o di questi campionati più o meno simili, che sono come potrebbero essere, che ne so, i prototipi, i GT, poi i SEAT, la SEAT Leone o cose d'altro genere. No, diciamo che il monomarca tendenzialmente dovrebbe far esaltare le caratteristiche del pilota e quindi insomma, a chi piace la bagarre come me è comunque un qualcosa che ti esalta, il sorpasso, la staccata, cosa che nei rally, nelle salite non è possibile, in pista è molto più a... C'è molto più contatto, sì. Ecco, non hai mai trovato il fatto che ci sia qualcuno che abbia usato qualche furbata, tipo una bussata per cercare di... Diciamo che la pressione psicologica è molto importante e sicuramente fa il fatto suo quando poi uno è stanco, poi lo stress psicologico della gara, sicuramente il fatto di farsi vedere negli specchietti oppure di abbagliare, di fare gli slalom sicuramente ti può indurre all'errore e sono tutte un po' strategie che ognuno di noi fa. Infatti, i cosiddetti volponi mettono in atto. Poi chiaramente io che diciamo sono un rookie della situazione, chi ha più esperienza di me come quelli che corrono con me sanno il fatto suo e anche l'ultima gara insomma hanno cercato un po' di mettermi in difficoltà giustamente perché... Allora, calcolando che questi campionati sono, sì, importanti, carini, ma costano, come hai detto anche tu prima, come si può, vincendo o stando in testa, limitare il fatto delle spese? Allora, diciamo che nella mia categoria, cioè nella light, nelle prime due gare che appunto ho vinto tutte le due gare, ho vinto un treno di gomme che insomma ha un buon valore e chiaramente è un aiuto in fondo all'anno per contenere i costi. So che c'è un premio finale in soldi, ora non mi ricordo quanto, la Pro è raddoppiata mi sembra. Più che altro, diciamo, la speranza mia è se riuscissi a fare un buon campionato di trovare degli sponsor per il prossimo anno per fare la categoria, la Pro, diciamo quella professionistica della Mini che ha cambio sequenziale, comunque un motore che ha 35 cavalli in più, 34 cavalli in più. Non cambieresti, tu già sicuramente ti vedresti nel 2018 ancora nel Mini Challenge, ma l'evoluzione. Sì, mi piacerebbe molto perché appunto come dicevo prima mi sono trovato molto bene anche con gli organizzatori che mi hanno anche saputo consigliare bene e poi ho un'amicizia con le concessionarie Autoverd di Firenze, Autoverd di Pistoia che mi hanno veramente aiutato tanto economicamente ma anche psicologicamente e come si dice squadra vincente non si cambia e spero di fare step by step e magari chissà il mio sogno sarebbe correre con la GT3 e con la BMW perché io sono un appassionato a BMW e è un sogno. Bene, la nostra spada di Damocle il tempo ci dice che sta quasi scadendo, quindi devi ringraziare qualcuno, devi fare in modo tale che una tua richiesta formale verso qualcun altro. No vabbè, innanzitutto ringrazio i miei sponsor che mi hanno permesso di poter affrontare questa stagione, ringrazio i miei amici del club delle BMW italiano che ormai siamo diventati molto amici e mi seguono sempre, ogni gara mi seguono, ci organizziamo. La mia famiglia e mia moglie che tra l'altro sto aspettando un bambino e spesso non può venire per un discorso che non sta molto bene, però insomma chiude sempre un occhio. Vabbè, siamo arrivati a tre, ne ha ringraziati tre, basta, il tempo si è scaduto. Vi abbiamo presentato un ragazzo giovane, un ragazzo chiamiamolo così figlio d'arte perché ovviamente suo padre l'ha indirizzato verso quello sport nel quale lui è arrivato sino a un traguardo molto importante, non poteva nient'altro che essere un grande appassionato e non poteva nient'altro che essere un altro ospite. Grazie Gabriele. Grazie mille a voi. Ci vediamo magari nel prosieguo della stagione. Speriamo. Sai che non si dice mai nulla, quindi. No, no. Alla prossima. Speriamo, chiudiamo le dita. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a tutti.